Buon pomeriggio a tutti, bentornati e benvenuti qui sul mio canale. Se ancora non l'aveste fatto io vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Inizia una settimana molto importante per il tennis italiano in quanto abbiamo diversi giocatori azzurri che saranno in scena nei tornei in Medio Oriente. Nello specifico abbiamo due ATP 250, quello di Chengdu, se qualcuno sa come si pronuncia meglio mi perdonerà, in Cina, e quello di Hangzhou, aspettando la settimana prossima quando nel 500 di Pechino entrerà in scena Yannick Sinner nel 500. Quindi l'attesa è tanta per vedere il numero uno del mondo dopo la vittoria agli US Open, dopo essere andato ieri in panchina con la nazionale allenata da Volandria a Bologna per sostenere Berrettini e Cobolli nel proprio match di singolare, torna in campo Yannick. Ma questa settimana appunto ci sono diversi tornei e diversi azzurri impegnati. Andiamo a vedere un po' quali sono le partite che li aspettano, il main draw, insomma un po' facciamo il punto della situazione. Cominciamo con l'ATP 250 di Chengdu in Cina, intanto sia questo che quello di Hangzhou si giocano all'aperto sul veloce, sul cemento, e abbiamo Musetti come testa di serie che entrerà al secondo turno contro Okotov o O'Connell. Lorenzo Musetti che è rimasto a riposo in Davis dopo un'estate che l'ha visto protagonista, un'estate in cui Musetti ha trovato quella che è la continuità che è sempre stato un po' il suo tallone d'Achille nella sua, seppur giovane, carriera. Una cosa che gli è sempre stata contestata Musetti era la continuità. Quest'estate bisogna dire che ha ottenuto degli ottimi risultati, ha fatto diverse finali, semifinale a Wimbledon, spicca il bronzo olimpico. Per Musetti attualmente numero 18 del ranking ATP, la sticella si alza e credo che già questo appuntamento, questo 250, possa essere un'occasione per continuare sulla falsa riga di quanto fatto fino a questo momento e fare una parte finale di stagione d'assoluto protagonista. Musetti difficilmente riuscirà ad entrare tra gli otto per le finals, a troppi punti dovrebbe vincere tutti i tornei a cui partecipa e dovrebbero incastrarsi una serie di risultati, però direi intanto di cominciare a fare bene in questo torneo. Musetti, come ho detto, se la vedrà al secondo turno contro Kotov oppure O'Connell, due giocatori di sicuro di buon livello, Musetti è superiore, però sarà già un buon banco di prova per Lorenzo. In questo 250 abbiamo anche Lorenzo Sonego che al primo turno se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel, anche qui Sonego ha vinto il 250 di Winston Salem in un anno che però oltre al cambio d'allenatore l'ha visto un po' in flessione rispetto a quanto ho fatto vedere nella passata stagione, è un Sonego che alterna buone cose a sconfitte abbastanza, non dico gravi, però rivedibili per un tennista che comunque ci ha sempre abituato a un buon livello, un guerriero Sonego, però anche da lui ci si aspetta qualcosina in più e staremo a vedere se già l'esordio contro Taro Daniel Riuscirà a mettere la firma su una buona vittoria e oltre a questi due c'è anche il veterano Fabio Fognini che al primo turno se la vedrà contro il russo Safiuli. In partita non semplice per Fognini, Safiuli un giocatore di buon livello, giocatore che sulla carta tecnicamente è nettamente inferiore a Fognini, però un giocatore che è più brillante fisicamente dove Fognini secondo me per avere la meglio dovrà dare qualcosa in più di quanto visto nelle ultime apparizioni, anche se Fabio ormai partecipa praticamente ai tornei del grande slam, solo che per rimanere tra i primi 100, qualche tornetto lo deve fare, qualche punto lo deve portare a casa anche lui e quindi lo seguiremo anche lui perché non so se l'ho detto prima o magari sarà una ripetizione, però in questa settimana dove ci avviciniamo al torneo di Yannick della settimana prossima continuerà il TG Tennis Azzurro che oltre a seguire i risultati degli azzurri che sto citando seguiamo anche i Challenger e comunque tutti gli altri azzurri impegnati in giro per il mondo, però faremo anche dei focus proprio sulle partite di questi azzurri per vedere un po' cosa combinano in Cina. Altro torneo, il 2.50 di Anzu dove ci sono ben tre azzurri protagonisti e qui la mia attenzione è ancora più alta perché abbiamo Nardi, Bellucci e Darderi, ora, o Darderi, in volte sbaglio la pronuncia, mi perdonerete, intanto Bellucci contro Karacev russo, partita molto tosta per Bellucci nel primo turno, Bellucci che è a ridosso della top 100 quindi per lui questo potrebbe essere il torneo che lo fa andare tra i primi 100 del mondo, ci auguriamo che possa essere così, Bellucci è un ottimo prospetto, è chiamato a fare il salto di qualità, staremo a vedere se qui in Cina questo potrà accadere. Poi abbiamo Nardi che, insomma, dopo l'acuto da Lucky Loser contro Djokovic a inizio anno si è perso, è sparito dai radar, risultati abbastanza disastrosi per un tennista che anche lui comunque ha ottime qualità, contro Marosian lungherese è non semplice l'esordio però se si vuole stare con i più grandi, con i più forti, bisogna anche iniziare a macinare risultati. Staremo a vedere se Nardi, che per onore di cronaca ha anche avuto un brutto infortunio quest'anno, staremo a vedere se si riscatterà e poi abbiamo Darderi contro il kazako Kukushin, veterano, giocatore di assoluto livello però Darderi, insomma, giocatore in top 50, azzurro che ha chiamato anche lui a dimostrare tanto, giocatore che mi piace, guerriero anche lui però ottima mano, insomma, uno di quelli che secondo me da qui ai prossimi anni potremo trovarcelo anche più avanti nel ranking, potrebbe anche secondo me arrivare in top 30, top 20, se la costanza e la voglia di migliorare non lo abbandonerà. Questa è un po' la panoramica, noi cercheremo di seguire i risultati, i tornei iniziano tra domani e dopo domani, quindi c'è tempo e modo per prepararsi, per seguirli e quindi io vi do appuntamento sempre qui sul mio canale per nuovi video tema tennis e poi, come ho detto, settimana prossima torna il nostro Yannick, magari con qualche diretta, anche se gli orari della Cina credo che non ci permetteranno di seguire i match in diretta, però ci avviciniamo a fine stagione con il grande obiettivo Finals e poi Coppa Davis. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre qui sul mio canale per i prossimi video. Ciao a tutti!